Mi fa 200 grammi di mortadella Ah, mortadella? Con colesterolo? Ma se ne ho fetta la mortadella, non stai capendo, chi ne ha visto a mangiare Ma perché tu tacchino che è a 79 centesimi? Sì, ma te che ho piccato la mortadella? E' un prosciutto cruro che è a 49 Ah, un prosciutto cruro? Cacciao tacchino? Cacciao tacchino? E' un prosciutto cotto a quando? Mi mangio tacchino, mi mangio un pozzo tacchino Ma che bello Giuristi, non giuri di po' polesterolo? E' un po' polesterolo Con il polesterolo ci vieni direttamente Ci riso il dottore che non ci perdesse il suo tempo? Non lo capisce? Si fa sì capriccio, signor Sandro Ah, un capriccio? Un capriccio, mi dà Ci riso il dottore che non ci perdesse il suo tempo? Buonissimo Buonissimo Dottore, non lo faccio fare E' un po' di pesa a 79 E' buono Signor, io mi mangio tacchino E poi se mangiamo tacchino Ma è normale uno coco di polesterolo? Si, si E' buonissima questa Buonissima Orecchio docce Che è a 89 centesimi Che non esiste in tutta la città Non esiste Orecchio docce Originale 89 centesimi Buon assaggio sempre Signor Sandro Che fanno? L'assaggio Ma io penso che voi ci muore un pezzo No Ma che ne ha mille di colesterolo? A basso contenuto di colesterolo A che capisci di tua salinatura? Buonissimo La scala è a punto giusto La scala è a punto giusto La scala è a punto giusto